Se un giapponese, un arabo o un americano in questo momento stanno guardando The Boat Show probabilmente riconoscono questa località, Portofino. È celebre in tutto il mondo perché è incantevole. Notorietà e bellezza sono le stesse qualità di questa imbarcazione. È costruita da Chris Craft, uno dei cantieri più celebri e antichi del mondo. E questo modello è il Capri 21. Trovo che questo paesaggio e questo motoscafo stiano benissimo insieme. Si può essere orgogliosi di possedere un grande yacht, ma si deve andare fieri di possedere anche un piccolo Chris Craft, come questo, lungo 6 metri e 45 centimetri. In fondo, se ci pensiamo bene, le auto più lussuose del mondo, beh, sono più piccole di questa imbarcazione. Insomma, non parliamo di misure, ma parliamo di stile, qualità, raffinatezza. Capri 21 è la moderna interpretazione dei runabouts degli anni 30, con il ponte di prua rivestito di tec, il parabrezza avvolgente e finiture impeccabili. I posti a sedere sono cinque e, molto comodi, le poltroncine pivotanti formano un salottino. Il prendisole di poppa è dolcemente inclinato e le imbottiture rivestono ogni centimetro disponibile, per questioni di comodità ed eleganza. Più lo si osserva e più si resta meravigliati dai dettagli. Il dritto di prua verticale ci dice che il progetto è però molto recente. La coperta esprime tutto il fascino di un tempo, ma la barca è realizzata con materiali e metodi di lavorazione moderni. Sino adesso l'abbiamo ammirata, ma sapete che a noi piace dare anche un parere tecnico sulle imbarcazioni. Dovete sapere che il cantiere fornisce moltissimi dati che altri costruttori non danno. Per esempio, ci avvertono che il baricentro di questo scafo è a 178 centimetri dallo specchio di poppa, più o meno in corrispondenza dello schienale del divano passeggeri. Ora, se danno queste informazioni, beh, vuol dire che non pensano soltanto a curare le finiture, non vi pare? Sapere dov'è il baricentro è fondamentale per la sistemazione dei pesi, ma persino per le operazioni di vario e alaggio. Per quanto mi riguarda, serve per sapere che anche se aggiungo dei passeggeri a poppa, non cambio l'assetto dello scafo. E infatti non hanno installato i flap. Qui si regola l'angolo di incidenza solo col trim del piede poppiero. A proposito di motorizzazione, abbiamo un motore Mercury da 300 cavalli, un 6200 centimetri cubici, ma se volete potete esagerare e andare anche fino a 350 cavalli, con Mercury o con Volvo Penta. L'ho portata in planata e non mi sono accorto di alcuna variazione di assetto. La prora non ha cabrata, continuo a guidare comodamente seduto, come se fossi rilassato a guardare la televisione sul divano. Ma mi sto godendo la giornata, il sole, il mare e questa barca. È meraviglia! Prima di dare manetta, ancora una preziosa informazione. Questa imbarcazione è garantita, scafo e strutture per 5 anni. Lo so, bisognerebbe essere sul lago di Lugano. E invece siamo nel Golfo del Tiguglio e per giunta c'è anche un po' di onda. Ma se va bene qui, state tranquilli che andrà bene su qualsiasi acqua interna. Decidiamo di farci portare dalle onde. Sì, le cavalliamo in questa maniera. Le prendiamo dritto per dritto con la prua. Trim tutto basso, un po' di gas e vediamo che succede. Il dritto di prova verticale ci aiuta perché dà qualche centimetro di lunghezza in più allo scafo e ci permette, anche su un'imbarcazione così piccola, di avere un buon controllo del beccheggio. Attenzione perché le onde qui sono piuttosto alte, perlomeno per questo tipo di barca. Circa 50-70 centimetri. Siamo a 2600 giri minuto. Velocità di crociera 19 nodi. Su una barca così corta, avere il piede poppiero con doppia elica che ti permette di controllarla così bene, così precisamente, ti dà sicurezza in virata e anche in rotta. Mi piace anche perché, pur navigando in questo momento con l'onda al giardinetto, quasi al traverso, riesco a tenere la direzione impostata e non c'è un eccessivo sbandamento. Anzi, non c'è proprio. Oh, ma non ci credo. Ma com'è possibile? Siamo a 28 nodi su questo mare. Tra il momento in cui Dogas e in cui il Conta Rodi cambia completamente i suoi numeri velocemente, non passa neanche un istante, nemmeno un secondo. Oh, leggera sull'acqua, decolla, mantiene la rotta. Cosa abbiamo fatto? Eh beh, ve lo faccio vedere perché è roba da non credere. 43 nodi e 8. Non male, vero? Ma se avessi potuto dare un po' più di trim. Eh, esagerata davvero. Da un cantiere con quasi 150 anni d'esperienza, era logico attendersi un'imbarcazione non solo iconica ed elegante, ma capace di dare anche ottime prestazioni in navigazione.